Abbandona i quattro figli piccoli a Brescia nel cuore della notte, hanno tutti meno di tre anni. Soccorsi dai carabinieri quattro bambini piccoli lasciati da soli in piena notte in strada a Brescia. Quattro bambini piccoli, due ancora in fasce, lasciati da soli sul marciapiede, al buio e al freddo. La storia arriva da Brescia, dove un un giovane papà di 23 anni ha lasciato in piena notte i quattro figli, il più grande ha tre anni, e sul ciglio della strada, davanti alla vecchia casa dei suoceri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il giovane è stato denunciato. Abbandona i quattro figli per strada. Il fatto si è verificato nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile a Brescia, nel quartiere Uragomella. Protagonista della vicenda un 23enne bresciano, da tempo residente in Germania con la moglie, coetanea e anche lei italiana. Secondo la ricostruzione riportata da Repubblica, in seguito ad una lite con la moglie il giovane è tornato in Italia in auto con i quattro figli piccoli, pochi mesi il più piccolo, tre anni il più grande. E giunto a Brescia ha lasciato i bambini da soli sul ciglio della strada. I bambini presi in cura dai carabinieri. I quattro fratellini sono rimasti per circa mezz'ora da soli sul marciapiede, al buio e al freddo. I due più piccoli, ancora in fasce, sui seggiolini per auto. I due più grande a tenersi per la manina. A lanciare l'allarme verso le quattro di notte sono stati alcuni residenti, svegliati dal pianto dei bimbi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trovato i bambini infreddoliti e spaventati. Li hanno scaldati e tranquillizzati, quindi il trasporto in ospedale per accertamenti. I bimbi stanno bene e su disposizione della procura minorile di Brescia sono stati affidati alla madre, nel frattempo giunta sul posto dopo essere stata avvertita dai familiari. La lite con con la moglie. Il 23enne è stato denunciato per abbandono di minori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia viveva in Germania ma in seguito ad una lite la donna era tornata in Italia e si era temporaneamente stabilita a casa dei genitori, lasciando i quattro figli piccoli con il marito. Dovendo però far ritorno anche lui in Italia per assistere il padre malato, il 23enne ha portato con sei bimbi, giunto a Brescia nel cuore della notte. Ha lasciato i quattro sul ciglio della strada davanti a quella che credeva fosse la casa dei suoceri ed è ripartito in auto. Peccato che nel frattempo i genitori della moglie si erano trasferiti altrove. È stato il padre del 23enne ad avvisare la nuora dopo l'arrivo del figlio, telefonandole e dicendole cosa aveva fatto il marito. La giovane si è quindi precipitata sul posto, dove erano già arrivati i carabinieri e il 118.